Il principe Harry ha fatto una serie di enormi confessioni sulla sua salute mentale nella sua nuova docuserie The May You Can't See con Oprah Winfrey. Queste sono le sette più grandi bombe che il duca ha lanciato nello spettacolo. La tanto attesa docuserie sulla salute mentale del principe Harry e Oprah Winfrey The May You Can't See è stata finalmente rilasciata da Apple TV e in essa il duca fa una serie di straordinarie rivelazioni. Dal passare alla droga per far fronte a un'ansia paralizzante alla ricerca di una terapia dopo una discussione con sua moglie Meghan Markle, 39 anni, queste sono le sette più grandi bombe del nuovo spettacolo. Harry ha ammesso di essersi rivolto alla droga tra i 20 e i 30 anni per far fronte all'ansia paralizzante di cui soffriva. Harry disse. Vorrei solo iniziare a sudare. Mi sentirei come se la mia temperatura corporea fosse di 2 o 3 gradi più calda di chiunque altro nella stanza. Mi convincevo che la mia faccia era di un rosso acceso e quindi tutti potevano vedere come mi sentivo. Ma nessuno avrebbe saputo perché. Quindi era imbarazzante. Ti metti in testa e poi dici. Tutti mi stanno guardando. Una goccia di sudore sembra che l'intera faccia stia colando. Punto. Sto solo sudando. E poi tutto nella mia testa che dice. Questo è così imbarazzante. Cosa pensano di me. Non ne hanno idea. Non posso dirglielo. Spiegando come si è rivolto alla droga e all'alcol per far fronte. Ha aggiunto. Ero disposto a bere. Ero disposto a prendere droghe. Ero disposto a provare a fare le cose che mi facevano sentire meno come mi sentivo. Ma lentamente mi sono reso conto che ok non bevevo dal lunedì al venerdì. Ma probabilmente berrò il valore di una settimana in un giorno il venerdì o il sabato sera. E mi ritroverei a bere non perché mi stavo divertendo. Ma perché stavo cercando di mascherare qualcosa. Harry ha spiegato come una discussione con Meghan è stata il catalizzatore per lui per cercare aiuto da un terapista della salute mentale. Harry ha detto. Ho visto medici. Ho visto medici. Ho visto terapisti. Ho visto terapisti alternativi. Ho visto tutti i tipi di persone. Ma è stato incontrare e stare con Meghan. Ha aggiunto. Sapevo che se non avessi fatto la terapia e non avessi risolto me stesso che avrei perso questa donna con cui avrei potuto vedere passare il resto della mia vita. Punto. Quando ha detto. Penso che tu abbia bisogno di vedere qualcuno. È stato in reazione a una discussione che abbiamo avuto. E in quella discussione non sapendolo. Sono tornato al dodicenne Harry. Nel momento in cui ho iniziato la terapia. Probabilmente era nella mia seconda sessione. Il mio terapista si è voltato verso di me e ha detto che suona come se stessi tornando al dodicenne Harry. Il mio terapista si è stato in reazione a una discussione. grazie. Grazie a tutti.